Ciao, bentornato Goodlier, sono Carlo e con questa prima lezione iniziamo il percorso didattico relativo ai computer. Partiamo subito con un concetto relativo alla definizione di computer. Senza inventarci nulla, andiamo a definire quello che è un computer. Sfruttiamo internet e andiamo su Wikipedia che dice che un computer è un dispositivo in grado di eseguire autonomamente una serie di operazioni logiche ed elaborazioni prestabilite sui dati in esso inseriti, fornendo un risponso, ossia diamo degli input e otteniamo degli output, dei risultati. Oggigiorno ci si riferisce comunicamente a un computer come un dispositivo elettronico e digitale che è esso stesso programmabile e con scopi generici. La descrizione che invece ritengo più interessante è questa. Il computer è un semplice esecutore di ordini, compiti o istruzioni impartite dall'esterno per risolvere determinati problemi di interesse attraverso un algoritmo di risoluzione del problema stesso in modo tale che a partire da determinati input produca determinati output attraverso l'elaborazione degli stessi. Nasce dunque per eseguire programmi o applicazioni, in sintesi un computer senza un programma da eseguire è inutile, un po' come una macchina senza un motore, di fatto un sovrammobile. Questa macchina come vedrai ha una versatilità spaventosa, infatti nel bene o nel male il computer ti potrebbe permettere o costringerti a rimanere seduto davanti ad esso per tutta la giornata, come tra l'altro avviene per molte persone. Una volta lessita una configurazione funzionante e magari possedere una connessione ad internet, sarai in grado di poter eseguire dalle più semplici operazioni alle più complesse. Ovviamente tanto maggiori saranno le operazioni da dover seguire, tanto maggiori saranno le prestazioni che dovrà possedere il tuo computer. Cosa potrai eseguire? Beh, semplicemente dalle operazioni più immorali e illegali fino a quelle altamente etiche, straordinarie e legali. Potrai giocare, studiare, lavorare, guardare ed ascoltare contenuti multimediali, contattare una o più persone all'altro capo del mondo in tempo reale e anche poterla vedere grazie a un monitor e una webcam. L'unico limite sarà il tuo atteggiamento, la tua predisposizione, la tua creatività, il tuo impegno, la tua volontà. Ora, se sei una persona totalmente avversa alla tecnologia, ci si potrà anche lavorare, ma detto questo dipenderà solo ed esclusivamente da te. Volutamente non considererò la risorsa economica, perché oggi il budget per acquistare una configurazione anche ottima, che tra l'altro ti permetterà di eseguire la stragrande maggioranza delle operazioni è dell'ordine di pochissime centinaia di euro, quindi tutto sommato alla portata della maggior parte delle persone. Solamente chi ha veramente problemi più importanti a cui pensare rivolge le proprie risorse economiche verso altre strade che sono ben più necessarie che non l'acquisto a quel punto di un inutile computer. Detto questo, una volta acquistata la configurazione necessaria ai tuoi scopi e non quella che vogliono venderti, sei pronto a tuffarti nel mondo dei computer. Voglio citarti un mio progetto a medio termine. Ho in mente di scrivere un report che eviti alle persone meno esperte di cadere in quella che definisco la trappola del venditore. Ossia, nel momento in cui andrai ad acquistare un computer o componenti dello stesso, potresti trovarti di fronte a un venditore senza scrupoli che, pensando esclusivamente alle sue tasche, passami il termine, ti ammollerà ciò che reputa necessario alle sue tasche e non quello che in realtà è necessario il tuo scopo. Bene, questo report sarà messo a disposizione gratuitamente solo per i frequentatori di questo percorso. In seguito anche vedrai la metodologia per poter scaricare questo report. Bene, anche se abbiamo fatto una premessa abbastanza generica, credo che tu abbia capito quale sono le potenzialità di un computer. Ma forse questo già lo sapevi. Nella prossima lezione inizieremo a vedere nel dettaglio la composizione del computer, analizzando dapprima il case, quindi il contenitore, e poi cominceremo a vedere i componenti interni partendo dall'alimentatore. Non mi resta quindi che ringraziarti per l'attenzione, un saluto, ciao alla prossima da Carlo. Grazie a tutti.